dicembre. Ah ok. Signori buongiorno, ben ritrovati a tutti, signora Bucaro ben ritrovata, seduta ordinaria dal 13 gennaio 2020, ore 10 e 40, primo appello. Buongiorno Presidente, ben ritrovato anche a lei. Aresu? Assente. Campella? Assente. Di Muli? Presente. Manaventano? Assente. Nona? Assente. Pernice? Assente. Sino? Assente. Susinno? Assente. Tumbarello? Assente. E Valenti? Assente. Presente solo lei, Presidente. Costa data l'assenza del numero legale, il Presidente chiude la salute e la rinvia alle 11 e 40. Perfetto, a dopo, Presidente. Stacchiamo la registrazione un attimo. Sì.